OverTraders è un nuovo progetto che nasce con lo scopo di facilitare la collaborazione fra traders. Mette a disposizione una serie di strumenti per la creazione di asset, progetti, trading e attività di ricerca. È possibile creare team propri o partecipare allo sviluppo delle nostre iniziative o partecipare alle iniziative di altri utenti all'interno del progetto. OverTraders si rivolge solo a un determinato tipo di soggetti, quindi solo agli studenti Forex University che hanno completato il percorso e hanno guadagnato l'accesso al top team. Non sono previsti i costi aggiuntivi rispetto al cavo di iscrizione Forex University quindi si accede al progetto solo grazie ai propri meriti professionali. I gruppi di lavoro, quindi è possibile creare un team e avviare un'iniziativa. Ogni utente dispone di un account che gli consente di creare i propri team di lavoro. È possibile promuovere quindi proprie iniziative per la creazione di asset, progetti di trading e attività di ricerca e invitare altri colleghi a collaborare. I team di lavoro, una volta formati, beneficiano degli asset prodotti insieme e possono scambiare, durante la messa in opera e le gestioni, idee, opinioni e richieste di supporto. Pubblicazioni e rapporti di amicizia Ogni utente ha la possibilità di produrre pubblicazioni con idee, risultati e sviluppi in seguito alla propria formazione ed essere apprezzato per il contributo alla comunità. In questo modo è possibile stabilire rapporti di amicizia per seguire il lavoro altrui o per essere seguiti da un certo numero di colleghi. In questo modo si costruiscono delle relazioni e da queste relazioni poi possono nascere le collaborazioni per creare gruppi e progetti per sviluppare quindi asset, progetti di trading o attività di ricerca per migliorare il business e per avviare proprie iniziative. Per consentire una discussione aperta dall'elevato spessore professionale è stato previsto un forum riservato agli utenti con lo scopo di facilitare le discussioni e far conoscere gli utenti. In questo modo è possibile confrontarsi sugli argomenti, conoscersi e consolidare quelli che sono dei rapporti per poter creare i gruppi di lavoro all'interno del quale si migliora il business del trading. Infine ogni utente ha la facoltà di creare gruppi di lavoro per lo sviluppo di proprie iniziative. Può invitare quindi altri utenti a collaborare per beneficiare insieme dei risultati e questo genere di gruppo prevede un rapporto collaborativo. È tuttavia possibile creare gruppi di lavoro a scopo consulenziale. Questo tipo di gruppo prevede il pagamento di un corrispettivo ai colleghi per le attività svolte. Quindi l'utente crea un gruppo, invita colleghi che hanno la giusta competenza per lo sviluppo di un proprio progetto, può stabilire un corrispettivo per il pagamento dei colleghi e i colleghi avranno la facoltà di accettare o reclinare questo genere di invito e quindi partecipare a un gruppo consulenziale o meno. Gli utenti più capaci verranno invitati nei gruppi Natural Love Trading della mia società per sviluppare i asset, progetti di trading e attività di ricerca, talvolta con un approccio collaborativo e talvolta con un approccio consulenziale in base alle varie iniziative proposte. Il progetto in questo momento è in fase di sviluppo e prevediamo una piena operatività a maggio 2020. Quindi per maggiori informazioni visita il sito overtraders.org